Priolo, transizione digitale, arriva la fibra ottica in città, il via sopra luoghi per la posa della rete. Sono cominciate le attività propedeutiche per la posa della rete in fibra ottica. Alcuni operatori per conto di Open Fiber stanno effettuando lavori di scensimento e verifica delle unità abitative presenti nel territorio di Priolo e sopra luoghi per comprendere lo stato attuale delle infrastrutture assistenti e individuare le migliori soluzioni utili al passaggio della rete in fibra ottica. Durante la fase di scensimento e verifica delle unità abitative, gli operatori tramite apposite applicazioni compileranno dei report e daranno evidenza del sopra luogo effettuato con foto sul posto. Si precisa che le foto saranno panoramiche, non dettagliate e non tratteranno dati sensibili. Durante il sopra luogo gli operatori in campo saranno identificabili tramite cartellino di riconoscimento e pettolina catarifrangente. Le attività si riferiscono ai bandi in Fratelli Italia A1GIGA, piano di intervento approvato dal Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale sull'intera area comunale di Priolo. La fibra, commenta il sindaco Pippo Gianni, costituisce un'enorme opportunità di sviluppo e di crescita ulteriore per il nostro territorio e la nostra comunità. consenterà di velocizzare il processo di digitalizzazione, semplificando e migliorando le relazioni fra cittadini e pubblica amministrazione e aumentando la produttività e la competitività delle imprese per una economia più positiva. Ai cittadini chiedo di collaborare con gli operatori.